ciao amici oggi faremo uno schiacciaolive quello che ci occorre sono due listelli uno spessore 28 e lungo 80 centimetri e largo 20 e l'altro invece largo 40 e lungo un metro spessore 18 mm spessore 20 km spessore 20 micro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La forata e la svasata per poterla applicare sul pressore, in questo modo. Poi, per quanto riguarda il blocchetto che ho dettagliato, dovrò effettuarci una fresata per poterci inserire la barra filettata. La fresata la faccio a due centimetri e mezzo da terra, quindi l'ho già segnato il punto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.